Momenti di tensione a Ballando con le stelle. Morgan ha sbroccato dopo l'ultima performance con la sua insegnante Alessandra Tripoli. Un coinvolgente samba che si è guadagnato una standing ovation da parte del pubblico in studio. L'esibizione ha però convinto poco la giurata selvaggia Lucarelli. A detta della giornalista il concorrente si è concentrato più sul contorno che sulla coreografia. A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo. C'è un progressivo disvelamento. Viene qui. Per quattro puntate ha fatto Biancaneve. Disponibile, allegro e solare. Finalmente viene fuori Mo. Un giudizio che non è andato giù a Morgan. Che ha iniziato ad attaccare la sua ex fiamma. Selvaggia Lucarelli ha infatti frequentato Marco Castoldi questo il vero nome del cantante qualche anno fa. L'ex marito di Asia Argento ha alzato la voce per Selvaggia è stato letteralmente impossibile portare a termine il suo discorso. A detta di Morgan Selvaggia Lucarelli non capisce nulla di musica e di ballo e per questo non è in grado di giudicare fino in fondo il suo lavoro in pista. La Lucarelli è chiusa nell'idea di giudicare. È evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un'insegnante di musica. In difesa dell'artista è scesa Alessandra Mussolini da tempo rivale di Selvaggia che ha supportato Morgan e ha anche smentito il suo presunto addio allo show di Rai 1. Nei giorni scorsi si è infatti sussurrato di un abbandono di Morgana ballando con le stelle per via di una certa stanchezza da parte del diretto interessato. Alessandra Mussolini ha assicurato che il concorrente va d'accordo con tutti. Si sta impegnando molto e non ha alcuna intenzione di mollare su due piedi il programma di Rai 1.